allora ragazzi bentornati nel mondo oggi sta pure quella scrianzata la prima volta che gioca con noi che gioca come a minecraft quindi c'è chi è riuscita ad entrare dopo anni nel mondo allora divo ok finiamo qua la scala e poi andiamo a picchiare a posto oddio cane muori posto allora ma fa questa scala di merck vediamogli qual è una frase una mina si è brutta contro come una frase che c'è da Oggi non penso che faremo qualcosa Allora, aspetta Io mi costruisco un bel picconazzo Una bella spada Dove sta? Mi aspetta che scrivo male Questa faccio incazzare A posto Vatti non so chi si è visto si è visto Io non voglio fare loro Ma adesso è incredibile trovare loro Cioè è facilissimo Cosa più facile che c'è E l'argento? L'argento o il ferro? Non so Benissimo Allora Cioè l'oro me lo fai trovare subito E il ferro no La cosa è un cittadino di Merkel? Oh i fuochi Eh viva Allora Vado a scrivere Le regole Del mondo Così Siamo tutti più felici A salire le scale Ma questo è stato ancora No È salita Perché sta sopra Perché questa volta è stato facile salire le scale Io non lo so Allora 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 Devo fare il pannello Devo mettere tutte le regole Quindi Quella sta scavando nel frattempo Ovviamente scriviamo tutto a culo di cane Perché Almeno È divertente Perché è giusto così Allora Allora Ok Le regole è un meme che è che ha inventato un nostro compagno di casa un nostro amico saluto a pietro ciao pietro lui ha inventato giubeppe e poi che altro possiamo scrivere ci saranno molti che me ne diranno di tutti i colori però non me ne frega niente forza juve aveva pure la tastiera c'è la juventus con la cervice link vabbè benissimo allora mettiamo un po di illuminanza qua che non ma si deve bloccare il gioco basta perché così alta la musica ma c'è il copyright stessa canzone spedino così da un'ora è per dire mi racconto una storiella allora anche se per stavo a casa massima è riuscito stavo andando a prendere un mio amico che dovevamo uscire a farci un mio miglior amico che è un deficiente dovevamo andare a fare uscire come due deficienti che siamo e allora a vedi musica non principale scusate ok c'è questo bambino in bici certo punto è caduto e lo hanno picchiato c'è veramente no raga non so non lo so perché sono scappato perché non sapevo che fa cioè stavano penso che vabbè tra amici il bambino terra stava ridendo quindi penso che stavano scherzando ovviamente però e non ho fatto niente però potrebbe anche essere quello che boh ma ci facciamo una mega pilluna ecco io volevo iniziare subito a costruire subito a costruirmi il castello quindi andiamo subito a farci dei blocchi d'oro così ci costruiamo il mega castello madonna master ball dicevamo andò a fare un mega castello e chi si è visto si è visto aspetta no ce l'ha la porta ma gli do fastidio che rio dio che scherzo vabbè io scendo giù non muoio aspetta allora iniziamo e nel prossimo video continuiamo sperando sempre che regga il telefono che passano c'è già facciamo in più ma il telefono morirà domani allora dobbiamo cercare di passare l'account anche sull'altro telefono perché io ho tipo tre telefoni e registro anche da quello così su questo posso portare senza avere paura che si blocchi il telefono tutte cose la vanilla e invece sull'altro posso fare quello cacchio che mi posso portare di nuovo gli stadi perché avevo intenzione di costruire uno stadio di nuovo un altro stadio però no insomma vediamo se l'ilio mi riesce a passare l'account e allora sì allora ferro 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 sì madonna ma ma dai ma dai ma che coglione raga ma non non voletevi male sapete che sono stupido fatevi domande sì sì ma sì no ma perché sono nato così stupido no 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 ecco la sia mamma te qua questo è oro c'è più oro che altro cioè ma vedi tu no 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 Ok Che figo Bellissimo Io cane Dio Giuseppe Dio Giuseppe Allora Ferro E ma allora Dillo che si tarato Io sono un coi E lo dirò Vabbè Ciao Io ho detto ciao E si fa così